Io sono cattolico, quindi ho perdonato questa cosa, l'ho perdonato perché si sa che la guerra porta certe cose, però non posso dimenticare. Queste le parole del presidente dell'Associazione Vittime della strage di Cavriglia, la strage nazifascista che si consumò nel 1944, la quarta in Italia per numero di vittime. Nella sala alle mie spalle, una sala gremita, alcuni dei familiari delle vittime a confronto con uno studio legale per capire se è possibile attuare una class action e ottenere un risarcimento. Questo comune ha pagato un tributo altissimo in fatto di vittime di guerra, il quarto in Italia, per numero di persone uccise, 192. I rastrellamenti avvennero nelle frazioni di Meleto, Castelnuovo, Massa, Sabbioni, San Martino e Le Matole. Bussarono alla porta i tedeschi, andarono in casa e lì c'era la moglie con la nipotina praticamente e alla mia zia, Anna, gli puntarono il fucile alla testa, un tedesco, e portarono via mio nonno. Però siccome abitavano Alberti e vedevano, da lì videro praticamente tutto, quando li fucilarono e poi gli dettero fuoco. I tempi per procedere all'azione civile sono molto stretti, i termini scadono il 27 di ottobre, questa la scadenza è indicata in un decreto legge dello scorso aprile, che ha previsto un fondo da 55 milioni di euro. È chiaro che è aspicabile, ma non ho dubbi che verrà rifinanziato perché stiamo parlando di risarcimento che sono milionari, anche solo per Sant'Anna, che forse non basterà neanche per Sant'Anna. Circa 5 mila euro il costo per sostenere la class action nel caso della strage di Sant'Anna di Stazzema, il costo è stato sostenuto dagli enti locali. Ovviamente in tutti i modi possibili saremo vicino ai familiari, a tutta la comunità che si interesserà a questa causa. Nel contempo stiamo valutando se anche il comune potrà costituirsi come parte civile insieme a provincia di Arezzo e regione toscana per partecipare alla causa.